buongiorno ragazzi allora per gli amanti dei prodotti smart qui oggi abbiamo una serratura smart che mi è stata inviata dall'azienda we look come altre volte è successo sono stato contattato da una incaricata dell'azienda che mi ha dato la possibilità di provare questa serratura inviandomi un prodotto a titolo gratuito io a dire il vero non sono un appassionato di prodotti smart diciamo di prodotti smart ho solo delle prese intelligenti che peraltro ritengo essere molto utili però per le altre cose non sono un grandissimo appassionato ero comunque curioso di provare questo prodotto e adesso andremo a vederlo insieme insomma lo scopriremo insieme come in tutte le confezioni che si rispettano ci sono comunque le istruzioni e qui abbiamo anche le istruzioni italiano c'è anche il QR code con il quale è possibile scaricare l'app dedicata questa che vedete ora è la serratura smart che all'interno della confezione come vedete come si può intuire l'apertura è a combinazione per la modifica della password diciamo preimpostata cioè quella di fabbrica basta fare riferimento alle istruzioni che come ho detto sono in italiano ma vi lascio qui sotto in descrizione anche il link del prodotto che acquistabile su amazon dove sfogliando tra le varie immagini del prodotto potrete trovare anche un video che riguarda in maniera molto dettagliata la configurazione della password all'interno della confezione troverete anche qualche accessorio come questa questa copertura in silicone impermeabile per la manopola con la tastiera questa cover può essere utile per proteggere la tastiera dagli agenti atmosferici o anche semplicemente dalla polvere all'interno ci sono anche due vitarelle di ricambio che possono essere utili qualora vengono perse quelle originali sono anche tre schede che permettono l'apertura della serratura semplicemente avvicinandole alla tastiera al tastierino per montare questa sottatura è necessario svitare la vite della manopola interna questa operazione è possibile farla grazie all'utilizzo della chiave esagonale che è fornita nella confezione come vedete l'asse dal quale ho smontato la manopola interna è stabilmente collegata alla serratura quindi quando si gira la serratura si apre e si chiude ora però mi sto sto fermando un attimo sulla qualità del materiale insomma il corpo della serratura mi sembra fatta di un materiale abbastanza resistente e come tutte le serrature vedete questo foro è quello diciamo che è la parte diciamo debole delle serrature cioè è il foro dove viene abitata la vite che poi la fissa alla porta generalmente le serrature vengono spezzate proprio in quel punto perché il punto debole il punto dove anche dove c'è meno meno materiale ci sono tantissimi video su youtube che vi faranno vedere come come vengono aperte le porte come vengono rotte le serrature e sono molto interessanti dateci un'occhiata che veramente non beneventirete qui invece passiamo alla manopola esterna quella praticamente dove c'è il tastierino dove si digita la password di accesso certo guardando questa parte della manopola esterna che sebbene è rivestita da un involucro in metallo ma come vedete all'interno è tutta in plastica insomma un po di perplessità ti vengono insomma vabbè prima di passare alle conclusioni vediamo come funziona questa tastiera come vedete c'è l'alloggiamento per tre batterie mini stilo tripla e questa vite che vede adesso serve a regolare la profondità della manopola a differenza dell'altra manopola quella che è posta all'interno dell'appartamento questa che è all'esterno non si sfila completamente come vedete la manopola esterna gira a vuoto viene attivata solo qualora viene inserita la combinazione il particolare dall'interno si vede il movimento dell'ingranaggio una volta attivata la combinazione la manopola aggancerà la serratura per quel tanto che basta per aprire o chiudere la porta e poi dopo si disattiverà automaticamente ora farò la prova anche con le tessere in dotazione e vedrete che la serratura si attiverà anche senza digitare il codice ma semplicemente appoggiando la tessera sopra la tastiera ora considerando che la serratura è attivata da tre batterie mini stilo c'è la possibilità che questi questi si scaricano intanto sul tastierino sul display è indicata il livello di carica delle batterie ma poi nel caso nel qual caso questi si scaricano comunque c'è la possibilità di alimentazione attraverso una porta usb se non ho capito male l'alimentazione attraverso la porta usb però viene attivata solo attraverso l'app dedicata quindi attraverso quel qr code dovete scaricare l'app dedicata per la serratura e solo dopo aver attivato l'app quindi dopo essere aver fatto tutte le procedure per registrarsi c'è la possibilità di alimentare la serratura attraverso un power bank che è collegato con un cavetto usb alla serratura quindi in situazioni di emergenza potete utilizzare anche questa funzione tra le varie altre funzioni c'è anche la possibilità di apertura della serratura da remoto ora voglio fare la prova di installazione di questa serratura smart su una delle due serrature della mia porta blindata quindi provvederò a smontare la serratura esistente la procedura è molto semplice innanzitutto ho tolto la ghiera interna di protezione quella estetica e ho tolto le due viti che tenevano il defender quindi ho smontato dall'esterno il defender e quindi come vedete adesso si vede solo la serratura poi sto provvedendo ora a svitare la vite centrale quella che va ad abitarsi nel corpo della serratura e girando diciamo infilando la chiave e girando un pochino la chiave fare in modo che la linguetta si alline e possa essere sfilata la serratura come vedete allineate le serrature hanno più o meno la stessa dimensione ora da un lato è uguale dall'altro lato è più corto ma non ci sono problemi perché comunque le manopole scorrono lungo i loro perni quindi possono essere regolate ora faccio una prima prova di installazione infatti come vedete non ho non ho rinfilato la ghiera poi la metterò successivamente poi ve la farò vedere grazie ecco come vedete ho rismontato la serratura e ho infilato e ho messo la ghiera prima adesso sto regolando attraverso quella vite che vi ho fatto vedere prima la distanza della manopola in modo tale che diciamo non strusci addosso la ghiera come avevo immaginato una serratura di questa tipologia smart mi aveva già destato qualche perplessità infatti per installarla è una cosa importantissima sono stato costretto a togliere il defendere e questa cosa è penalizzante dal punto di vista della sicurezza non prendo in esame l'aspetto estetico cioè che la serratura è color argento mentre le ghiere sono color color oro d'altra parte mi è arrivata così quindi non era preventivato che non l'ho acquistata apposta ma quindi questo questo aspetto non lo prendo proprio in considerazione quanto riguarda invece il discorso estetico all'interno della porta questo diciamo si abbina perfettamente alle maniglie che ho perché sono proprio lo stesso colore come vedete all'interno la manopola comanda perfettamente la serratura mentre all'esterno ovviamente bisogna impostare la combinazione per aprire o chiudere ora un altro elemento che mi destra un po di perplessità è questo questo asse interno che praticamente è bucato e buono e ovviamente perché comunque dentro c'è il meccanismo ma la cosa fondamentale è proprio questo aspetto l'aspetto di dover eliminare il defender quindi penso proprio che dopo aver fatto questa prova di installazione rimonterò sicuramente la mia vecchia serratura perché come vedete diciamo che qui e con con la nuova serratura togliendo il defender si si presta a poter essere agganciata la parte terminale della serratura con una pinza a scatto per fare forza fare leva e spaccarla nella parte centrale dove vi ho fatto vedere che era la parte debole quindi in conclusione è molto carina questa serratura smart però francamente io non la fallerei in una porta esterna ma potrebbe andare bene per per un bed and breakfast per delle porte interne i due ambienti sono già protetti da un portone principale con una buona serratura è un buon defender